Ciao a tutti, sono Michele di scommesse.commentirecensioni.com Oggi andremo a vedere come registrarsi sul sito di signorbet.it Nella prima pagina principale andiamo ad inserire i nostri dati personali Quindi nome, cognome, codice fiscale e tutti i dati che vengono richiesti A questo punto clicco avanti Nella seconda pagina ci vengono richiesti i dati di residenza e contatti Procedo con l'inserimento di tutti i dati Andiamo ad inserire anche il tipo di documento che vogliamo caricare Con il relativo numero e tutte le informazioni A questo punto clicco avanti Ecco che arriviamo alla schermata finale dove inseriamo i nostri dati di sicurezza Quindi un username, la nostra password La domanda di sicurezza E il limite di ricarica settimanale Confermiamo tutte le spunte E procediamo alla registrazione Ecco che ci siamo registrati Adesso confermiamo l'email che abbiamo ricevuto E dopodiché siamo pronti a scommettere Grazie ragazzi per oggi è tutto Alla prossima Buone scommesse Grazie a tutti